Ben trovati! Lavoro in corsa al Museo Gemma, ma sempre un po' di tempo per raccontarvi alcune curiosità. Avete mai sentito dire duro come una roccia? Beh, non è sempre vero. Itacolumite o gress elastico. E questa è la roccia che sfida un po' il detto duro come una roccia. Già, perché questo campione, che è un'arenaria, è in pratica una sabbia cementata, per processi di alterazione successivi alla sua compattazione, ha cominciato a decementarsi e quindi a presentare una speciale, particolare flessibilità meccanica. Questo è un campione storico molto importante perché è stato portato al museo dall'ambasciatore in America Latina e dalla famiglia d'Este, che in un qualche modo era arrivato in America Latina grazie ai rapporti con Messico e nazioni confinanti della Casa Reale d'Asburgo Lorena. Non riesco a sollevare il campione perché è davvero pesante. La frattura che vedete ora inquadrata è legata ai tanti tentativi che in passato gli studenti hanno fatto per verificarne la flessibilità. Dal Museo Gemme è tutto. Arrivederci alla prossima curiosità.